E in Kinder Sorpresa c'è una sorpresa ancora più grande! Niki vi regala un poster fantastico! Non perdetelo! Firmato da Pietro Baldi! Yes! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, sono qui con... Nickel Blade! Nickel Blade! Nickel... Play si legge qui, ovviamente al contrario. Sono con... Ok, si vede bene. Come ti chiami? Niki! Niki! E questo è il premio che Niki darà ai primi tre di voi che... Vinceranno il contest dei 4.000 iscritti, mi raccomando! Io vi faccio i miei migliori auguri e continuate così perché il cosplay è una bellissima arte! Un saluto da Leonardo Graziano da... Shadow! Rasenga! E... no, e anche... E poi un Rasenga! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Io sono NickelPlay e quelli che avete sentito poco fa erano Pietro Baldi e Leonardo Graziano, rispettivamente alle voci di C16 di Dragon Ball e Sheldon Cooper di Big Bang Theory! Ragazzi! Finalmente siamo arrivati ai 4.000 iscritti e quindi ho pensato di fare una cosa un po' diversa! Anzi, a dire vero non sapevo cosa avrei dovuto fare per questo video e quindi ho avuto una genialata all'ultimo! Come sapete, alcuni di voi sapranno che il 9 e il 10 di gennaio si è svolto al Palamazone di Taranto un evento costo, una fiera del fumetto, il Man Games! E qui erano presenti appunto questi due doppiatori e direi fantastici doppiatori perché poi ci ho anche parlato e sono davvero due persone davvero fantastiche che si sono messe a disposizione di tutti e sono stati davvero fantastici! E quindi cosa ho pensato di fare? Ragazzi, io semplicemente ho creato dei poster che ho fatto firmare da loro! Ve li faccio vedere, vedete? Questo è il poster di Leonardo Graziano che ho fatto firmare con Sheldon Cooper e Naruto, vedete, con la dedica! E mentre questo è quello di Pietro Baldi, con tutti i personaggi di Dragon Ball che lui stesso ha doppiato! Quindi ragazzi, cosa ho pensato di fare? Questi due poster io ve li voglio regalare! Quindi cosa faremo? Faremo un'estrazione! Ovviamente, come tutte le estrazioni ci sono delle regole, quindi cosa dovete fare ragazzi? Dovete semplicemente fare così, dovete recarvi alla mia pagina Facebook che si chiama Nickelplay The Store of Nerd Che qui sotto vi metterò il nome, come si chiama e in descrizione vi metterò anche il link E dovete mettere mi piace a questa pagina, punto primo Secondo punto, dovete commentare il post che troverete, diciamo, fissato in alto a questa pagina E commentando appunto quale post volete invece, quindi scrivendo o Pietro o scrivendo Leonardo Di conseguenza poi il terzo passo che dovete fare, dovete condividere questo post sulla vostra bacheca Taggando così tre dei vostri amici, che a loro volta dovranno fare gli stessi passaggi Ragazzi, io me ne sono fatti fermare tre di questi post, rispettivamente uno per uno Però ragazzi, io ve ne voglio dare solo uno perché voglio che sia una cosa un po' più esclusiva Voglio che solo uno di voi abbia questo fantastico post Anche perché il secondo me lo voglio appendere prima di tutto in negozio Perché voglio che sia proprio incorniciato in questo negozio E il secondo invece voglio che lo voglio regalare a un amico di Taranto O a degli amici di Taranto che desiderano tanto averlo Questo contest durerà un mese, quindi partirà da oggi e scadrà il sabato 13 febbraio Quindi faremo subito dopo un video che sarà pubblicato solo su Facebook Quindi tenete costantemente sotto occhio la mia pagina Perché il video sarà pubblicato su Facebook con l'estrazione del vincitore Di conseguenza finita la prima estrazione, siccome mi rimarrà sicuramente l'altro post Faremo una seconda estrazione con il poster rimanente Quindi ci saranno due vincitori e quindi avrete entrambi uno dei due poster E niente ragazzi direi che questo video può concludersi qui Mi raccomando seguite tutti i passaggi Quindi mentre mi piace alla pagina Commentare il poster scrivendo uno dei due doppiettori che volete vincere Quindi Pietro o Leonardo E terzo condividere taggando tre dei vostri amici Che a loro volta, ripeto, devono fare la stessa cosa Il poster rimarrà fisso in alto sulla pagina E qualora qualcuno di voi non sapesse bene le regole nel post Vi metterò ovviamente il link di questo video Così potete leggere, potete sentire meglio Tutti i passaggi che dovete seguire per poter vincere questo contest Il contest dei 4.000 iscritti Ragazzi io ringrazio voi per essere raggiunti E per aver raggiunto questi 4.000 iscritti E soprattutto ringrazio Leonardo e Pietro Che veramente si sono messi a disposizione per poter realizzare questo video Ragazzi io dico veramente sono dei doppiatori davvero fantastici Tra l'altro nessuno di voi sa che io ho una mania Uno dei miei hobby è quello di riconoscere Quando vedo un film, un telefilm, un cartone o quello che sia Il mio hobby è quello di riconoscere i personaggi che stanno doppiando Quindi magari posso anche non conoscere il nome del doppiatore Ma l'importante per me è riconoscere la voce del personaggio che viene doppiato Quindi questo è un mio hobby un po' particolare Alla fine probabilmente non capirò nemmeno il film o il cartone o quello che sto vedendo Però alla fine per me sono soddisfatto di riconoscere il personaggio che viene doppiato Quindi questo è giusto una parentesi che apro e chiudo subito Di un mio hobby un po' stralunato E niente ragazzi quindi ci vediamo Faremo le stazioni appunto il 13 febbraio Quindi che vinca il migliore o che vincano i migliori E spero che l'idea vi aggrada E niente ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi